C'è qualcuno in mezzo a noi che è in grande angoscia per i propri figli perché vedono che i figli hanno abbandonato la via maestra e alcuni di loro hanno intrapreso una strada non gradita al Signore. Ma il Signore si piega su di te in questo momento che tu stai pregando per loro e ti dice non temere, non temere perché il mio sguardo è fisso su di loro. Loro stanno facendo scorrerie a monte e a valle perché si pensano che nel mondo troveranno felicità ma l'unica felicità la troveranno in me e ricordati tu continuo a presentarli a me, tu continuo a pregare per loro perché alla fine questi figli ritorneranno a me come il figlio al prodigo dopo che avranno consumato tutto, tutto e avranno provato tutti i piaceri di questo mondo malvagio allora capiranno che l'unica via sono io. Non temere perché il tuo cuore è molto affrante in questo momento, io lo vedo e mi dispiace però loro devono fare le loro prove perché si pensano in questo momento la loro mente è presa dal maligno che gli fa vedere il mondo bello e che la strada che devono seguire, che gli ho messo io dinanzi tanto tempo fa si pensano in quella una strada che li porterà a non avere nessun piacere ma alla fine capiranno che l'unico piacere sono io perché io sono Dio, perché io li amo, io li ho formati ed io li tengo nel palmo della mia mano. State tranquillo, stai tranquilla tu che stai pregando che tu vedrai un giorno i tuoi figli ritornare a me e allora insieme mi glorificherete, mi benedirete e mi adorerete perché io li amo, questo dice il Signore.